Ma assolutamente sì, vi ho detto in conferenza stampa quando siamo andati in regione per discutere del finanziamento, tutti da Napoli sapevano di questa fantastica realtà, quindi vuol dire che è una realtà che negli anni si è costruita da sola, con sacrificio ed era doveroso oggi dare il nostro contributo come comune, come città di Caserta ad una realtà che ormai da 20 anni è sul territorio e anche oltre come ci hanno detto in conferenza. Grazie 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 a tutti